Cosa succede? Che mentre online abbiamo sempre quel timore un po' riverenziale dal passare da maleducati, dall'essere giudicati da chi legge il nostro posto un po' cattivo, offline abbiamo ancora l'autenticità e la fortuna di mandare fuori dalle scatole le persone che non c'entrano. E questo è il punto dello snodo centrale, ovvero quello che noi non possiamo essere il giornale di tutti, il giornalista di tutti, il marchio di tutti, il tè di tutti, il detersivo di tutti. Non sono questi i nostri obiettivi di comunicazione, non è questo che dobbiamo perseguire. Noi dobbiamo essere il prodotto, l'articolo, la voce del nostro target. Punto. Che cosa intendo dire con questo? Intendo dire che quello che voi avete visto qui è solo una piccolissima parte di quello che è il trolling online. Perché il trolling online, che poi fa esplodere i cosiddetti social media epic fail, è molto più crudo, è molto più diverso.